Ciao ragazzacci, sono Amici825 e siamo qui su Jans Machine 2017 è un gioco che uscirà su Steam, io l'ho ricevuto come beta in anticipo ho provato se funzionava o funziona, mi sembra anche un gran gioco La fortuna sorride gli audaci, miniera di silicio in Wyoming, USA White Thunder Ok, il tuo primo compito è la stazione di silicio grazie a cui termineremo il lavoro con la navetta spaziale non vedo navette purtroppo sulla nostra principale macchina si è verificata una piccola avaria Ok, l'operatore si è anche licenziato, bene, bene, bello Utilizza il rimorchiatore TugZM per raggiungere l'officina da campo Va bene, quindi, bello anche che ci sono i comandi quindi fammi vedere i comandi azione, entriamo poi, possiamo mettere, motore si accende spegniamo la radio, chi se ne frega bello che si vede anche che cambia bello, mi piace questa cosa, fammi vedere, posso cambiare anche la radio? no, non funziona la stazione successiva, va bene, chi se ne frega quindi spegniamo la radio, accendiamo i fari non si sa mai togliamo il freno a mano e puh, che figata mi piacciono le cose quando sono come dire, quando sono così che si muovono tutti i pulsantini anche il pulsantino delle luci, vedete là, si muove mi piace, mi piace anche il pulsantino della radio, spero no, la radio non ha pulsantini stiamo andando sui 33 e 34 all'ora guardate qui che bello, noi siamo, dovremo guidare quella lì perché metto la multibenna, penso sia questa questo è un mezzo pesante Jans machine mi fa capire che guideremo tutti del guideremo sempre del dei, come si chiamano, dei mezzi molto molto pesanti quindi arriviamo fin là vai all'officina da campo, non ti preoccupare gira a destra, gira a sinistra, va bene si muove anche il volante, va bene i cavi danneggiati, sarò sul bancale accanto al serbatoio cerca di recuperare la loro funzionità vabbè, non ti preoccupare, ci penso io, ci penso raccogli i cavi, non ti preoccupare uh, è partito, è partito scivola tantissimo questo mezzo, scivola tantissimo poi, freno a mano, spegniamo tutto spegniamo le luci no, già erano spente usciamo dal mezzo, mi piace che poi c'è c'è una parte anche, come dire, di storia come faccio a prenderli? con la E si alzano, perfetto poi, fammi capire, andiamo qui che bello che, uh, riparare bello che ci sono anche tipo i simbolini che ti fanno capire dove devi andare io molto spesso mi perdo in giro per il mondo ok, ma se io lascio torno indietro ora non torno neanche indietro, perfetto uh, sono riparati vedo che ti stai raggiando molto bene grazie, lo so, sono un professionista adesso cerco di non morire durante l'allacciamento dei cavi e l'attuatore superiore è posto ad oltre 100 metri di altezza porca miseria, dove devo portare? è la miseria, lo potevano mettere più sopra si può correre, sì, con shift si corre allora, dobbiamo trovare la scaletta qui, dobbiamo prendere le scalette per salire che casino è, che casino è ma poi questa scaletta si smonta in qualche modo o quando si muove si tira dietro la scaletta ok, cerchiamo di salire troviamo la strada, ok, visto la strada dobbiamo salire di sopra guarda che casino che è ma c'erano 100 scalette ci sono qui di qua non si va si va di qua, allora cerca di non morire peraltro lui certo che si fia di me cerca di non morire bello mio, io ci provo ma potrebbe succedere di tutto e di più ok, guarda dove l'hanno messo guarda dove l'hanno piazzato figo che oltre a guidare le macchine c'è una parte di storia di guida guarda qui stiamo salendo tantissimo stiamo salendo eh a parte che non so come fa perché per salire su queste scale usi due braccia lo starà tenendo con la bocca il tuo vicino qua ma secondo me sì il cavo secondo me lo tiene con la bocca guardate qui che figata siamo altissimi ok, 20 metri ancora non arrivo più non arrivo di sopra chissà cos'è quella sarà liquame liquame o liquame o non so veramente cosa sia ah siamo arrivati no, no no, no, no cazzolina sono caduto per guardarmi di là sono caduto perché stavo guardando liquame ero arrivato in cima che cavolo però la scava più lunga non c'era oh guarda lì guarda lì che bello però mi sono salvato mi sono salvato come in Minecraft che ti salti ti lanci sulle scale e non muori figo figo ci può stare ci può stare ormai sono un professionista ok andiamo qui collegati così si adatta come un guanto a beh me lo dici a beh me lo dici la successiva operazione che c'è da fare prima delle guida è l'avvio dei generatori elettromeccanici scendi sulla piattaforma principale attiva lì allora la piattaforma è 97 metri secondo me moriamo? io ci provo io ci provo vai vai prendi allora aspetta un attimo se noi ci lanciamo e poi guarda che non mi fa lanciare prima prima stavo morendo ok cioè se guardo in su va giù ma porca miseria sta prendendo un sacco di tempo ok così guarda uh mamma mia mamma mia che sono un mago mamma mia che sono un mago non mi dite che non sono un mago ho fatto una cosa assurda dovevo morire eh tenere che figata che so sti cosi avvia i comandi tenete tenete tenere scusi esce un po' di polvere da sti cosi ma che so sti sti rullini che escono ok io li sto alzando non so cosa sono questo grosso necessita di un raffreddamento adeguato avvia i ventilatori principali usando l'ingrenaggio sul ponticelle posteriore dove cazzo sta a 11 metri sotto di qua ok ma tutto io devo fare non c'è uno che mi può aiutare in qualche modo sto facendo tutto io sto facendo allora scendo di qua cerco di trovare la strada per questo ponticello posteriore ma la strada non è che la trovo benissimo no mi sono bloccato da qualche parte non dovevo venire di qua devo fare tutto il giro a destra? eh sì mi sa che devo fare tutto il giro che palle però io salto eh ok perfetto vai di qua con salti ah dovevo scendere sotto e non fare il saltino sì vabbè però non è che posso perdere tre ore quindi questo pa guarda lì mi spinge? no devo accendere l'un altro anzi è giusto mi hai detto che erano due accendiamo anche il secondo accendiamo toggle ok perfetto e poi dove devo andare? risulta che tutti i sistemi sono funzionali ok buon lavoro allora sali in cabina dell'autista avvia l'escalatorio di multibenne e vai al posto da cui incominceremo in stazione del silicio allora la cosa dov'è? la guida la guida è qui sotto io io arrivo con un sistema tutto mio ok scendiamo di qua se ci sono le scalette porca miseria mi sono fatto malissimo come non ho capito come ho fatto prima a non morire entrare ok mo mostro i comandi freno manuale ok questo qui non penso che abbia un freno ma avvia l'escalatore multibenne ah con la X ok speed channel no spegni la radio sta cazzo di radio sei fissato che faccio? devo andare da quella parte eh sì ciao quanto ci vuole così peraltro secondo me il freno a mano ripeto non credo potessi avere il freno a mano sto coso no penso proprio anche perché come fa a muoverlo cioè non è che se ne va che un mezzo ci vogliono 30 minuti così è ve lo taglio allora sono quasi arrivato ho scoperto che ci sono anche altri visuali questa è la visuale libera che ti permette così qua guardi la multibenne questa è la visuale dall'interno e questa è un'altra visuale allora la velocità di questi mezzi è giusta perché comunque è un mezzo enorme io non so se avete visto mai quel mega mega fabbriche o mega 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 macchinari una cosa del genere si chiama su sky su discovery ci sono hanno fatto una volta una puntata su una cosa del genere e sono mezzi molto molto lenti è giusto è giusto non è che dico che sia sbagliato però che palle è un gioco questo siamo arrivati? ok io penso siamo arrivati ok buon lavoro da domani possiamo incominciare la restrazione uh tutto qui tutto qui dovevo fare allora aspetta che facciamo un'altra facciamo la seconda parte possiamo incominciare la stazione cilicio al via il damper vai sotto il punto di scarico dell'escavatore multibenna ricordi controllare il livello di pressione del sistema idraulico il superamento della norma ammessa porta all'interruzione del funzionamento allora dovrai uscire dalla cabina e attivare i fusibili non ti preoccupare ci penso io allora saliamo di qua ammazza che bello questo qui è sempre stato il mio sogno magari potessi guidare uno di questi questo è liber è quello della labor liber non so come si pronuncia perfettamente capito qual è però come si fa a entrare fammi capire non posso aprire ah forse devo entrare dall'altra parte ok entrare bello bello poi gira a destra visuale uh questo qui mi piace tantissimo io questo l'adoro questo l'adoro visuale accendiamo accendiamo tutto accendiamo il motore mi piace questo mi piace no gentilmente con la p ok poi pressione cassa su cassa giù e la pressione qual è ah la pressione è indicata lì allora dove devo andare fammi un po' capire dove devo andare devo uscire di qua e andare da quella parte ok questi sono molto lenti eh ok vedete là c'è scritto pressione perfetto guardate come fa il cambio il cambio sta impazzendo fa tutto lui ok perfetto perfetto visuale guarda che bello questo qui è enorme magari potessi che poi questo qui è il meno famoso con la pressione che faccio scarico la pressione ok la pressione la scarico ok ho preso un piccolo spigolo non l'avevo visto questi qua sono fantastici sono mezzi lenti ma enormi cioè una ruota è più alta di un uomo pensate un po' una ruota più alta di un uomo una cosa incredibile quindi vado di qua cassa su che fa ah sì questo qui per scaricare ok ho capito nasconde i comandi molto molto bello questa è la visuale libera ok ma mi previsco questa qui dall'interno sapete scarichiamo un po' la pressione sto scaricando la pressione con la Q scarico la pressione ma cos'è che urto da tutte le parti e che cavolo eh 0 chissà cos'è quello 0 0 che c'è lì vai avanti vai avanti ok forse è meglio questa visuale vedete che c'è questo 0 0 qua sarà tipo una bilancina elettronica può darsi può darsi ricordiamoci uh perché gira tantissimo questi qua sono mezzi di una pesantezza assurda però sono bello bello con la Q scaricate la pressione vedete là che sale la pressione bisogna scaricarla sì ho capito ho capito ormai posso dirmi pronto a guidare questo mezzo magari magari 60 km all'ora questi qua sono sono mezzi veramente fantastici da dove vado perché io non penso di poter passare di qua io vado dritto eh bisogna andare dritto di qua qua cosa c'è c'è dell'acqua tipo non lo so che cos'è quella cosa lì però va bene che poi parlava di space shuttle perché parlava di space shuttle questa non l'ho capita scarichiamo la pressione non ho capito che è sta pressione che scale sale così la pressione mi devo mettere qui a marcia indietro aspetta vabbè piccolo danno a parte il danno che faccio ma veramente mi cambi il visuale gentilmente qua devo andare a marcia indietro ok così a marcia indietro più ah ok perfetto ho capito come devo andare a prendere devo andare a mettermi lì sotto si 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 ho capito ho capito ho capito tu non ti preoccupa di niente ci penso io ci penso ok così oh l'ho messo bene metti il freno a mano possiamo incominciare stazioni vere e proprie sali in cabina dell'operatore scalatore non ti benna e avvia il motore boh sta cosa mi suona un po' strana perché comunque chi guida un mezzo non ne guida un altro per guidare quei mezzi là ci vuole poi una super licenza ci vuole no allontanati gentilmente allontanati come faccio a salire lì sopra devo salire da qualche parte devo salire da dove da dove sono salito prima ma da dove sono salito prima da questa scala state tranquilli state state tranquilli che so tutto so io molto bello questo mezzo mi piace tantissimo poi peccato che ogni tanto mi perdo poi mi piace come è fatto sto gioco non è solo guida è che devi andare a girare devi andare a fare delle cose mi piace mi piace però non so come si fa ad arrivare lì sopra questo per me è un danno allora si va di qua però salgo io continuo a salire perché tanto strade non ne vedo cioè non è che vedo un granchè quindi io continuerei a salire dovrei prendere questa mi sa sì 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 dai dai che ci sono ci sono ho capito molto bello molto bello peraltro qui sopra io non correrei mai andrei molto piano secondo me ti devi anche collegare con una corda di una funa di sicurezza perché se cadi qua muori qua è un attimo che oggi ci sei domani ti trovano sepolto sotto la terra ok vado più piano per fare bene questa scala perché non voglio morire entriamo qui dentro con lei si è uh che figata fammi vedere le visuali sono tutte le visuali perfetto questa qui che cosa devo fare avvio il scalatore io penso che si avvia sempre con la con la x sì ok avvio la ruota scalatrice e attentamente incomincio ad amministrare il minerale i risultati migliori i migliori risultati otterrai raschiando relativamente piccoli strati della terra alla volta non perdendo la maggior parte dei materiali strati raccogli i mini di tonelati di silicio grezzo ok per la ruota si accende con la r ok poi aspettate un attimo che guardiamo dall'altra visuale questo qui secondo me è più com'è che si guida che cosa sto facendo allora braccio su braccio giù braccio in avanti non si può portare no così si gira non si può allungare il braccio non ci arriva non so come arrivarci là così me lo alzo e me lo abbassa però non ci può arrivare allora devo andare a destra devo andare per forza allora fammi guardare di qua guarda che figata poco alla volta mi ha detto lui non fare tutto in un colpo ok perfetto così otterrò più risultati perfetto mi piace questa cosa uh ok così va bene va bene scaviamo poco alla volta massa minerale mille una tonnellata e quando ci metto per farne mille ok io continuo a scavare io non so se devo scavare così o mi devo girare di più o di meno ok non ho capito che era sto suono che cavolo è sto suono boh non ho capito bene come funziona questa macchina guardate qui però è bello che si uh l'ho fatta maledizione a me maledizione l'ho fatta fallire perché ho danneggiato la macchina porca miseria va bene ci vediamo nella prossima puntata sempre qui su Jans Machine 2017 ciao